Il consumo mondiale di prodotti della pesca negli ultimi 60 anni si è raddoppiato, si è passati da una media di circa 10 kg annui pro capita agli attuali 20 kg annui a testa. L'aumento del consumo è dovuto in parte all'aumento della popolazione mondiale, all'aumento del benessere individuale ed in parte anche all'avvento di nuove mode culinarie. Si è potenziato il commercio mondiale del pesce rendendo più facile e frequente l'importazione dall'estero, allungando il percorso dall'acqua alla tavola ma rendendo anche più tortuoso e anche più complesso il percorso di tracciabilità e di rintracciabilità. Ed è questo l'argomento di oggi, come identificare il pesce che stiamo acquistando, come leggere l'etichetta, come stabilire se l'etichetta è giusta o falsa, cosa rischia chi froda e fa il fumo. E per parlarne con noi a Quotidiano Medicina uno specialista, Giorgio Smaldone, medico veterinario, dottore di ricerca nel Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università Federico II di Napoli. Uno specialista, una volta, ma ancora oggi, in alcuni casi, il pesce, dottor Smaldone, stava sui carretti per la strada, oppure nelle pescherie, così, e lì l'acquisto era un po' sulla fiducia che ci legava al pescatore, al pesciventolo. Oggi, invece, come è presentato il pesce ai consumatori? Cosa deve riportare l'etichetta di un prodotto ittico? Vediamo un po' questa videata che ci fa vedere Mario Argentino, che ci spiega un po' in rosso le diciture obbligatorie, vero dottor Smaldone? In rosso ci sono presenti le diciture obbligatorie secondo la nuova regolamentazione comunitaria. Allora, come vediamo, in primo deve essere indicato il nome comune ed il nome commerciale dell'ottore della pesca. Sì, in questo caso, sgombro, nome commerciale, e nome scientifico scombers gombrus. In secondo, è obbligatorio porre il metodo di produzione. In questo caso, vediamo catturato nel malceltico settentrionale. Prima, dove bisogna vendicare la zona FAO, quindi la zona del mondo secondo dei criteri FAO. Oggi, invece, oltre alla zona FAO, deve essere posto in etichetta il nome della zona in termini molto più comprensibili per il consumatore. Una cosa è scrivere zona FAO, come da noi, 37.1, e un'altra cosa è scrivere pescato in zona FAO con a fianco la dicitura della zona. Anche con l'attrezzo. E' importantissima soprattutto la categoria di attrezzi di pesca, in questo caso reti da traino. E' importante anche da un punto di vista etico, perché una cosa è pescare un prodotto con le reti da traino, quindi molto più traumatizzanti per l'abitat, e una cosa è pescarle con reti da posta o con ami e palangari. Indicata anche la data, è vero? La data di scadenza. Deve essere indicata la data di scadenza secondo i nuovi regolamenti. Deve essere indicato, naturalmente, se il prodotto è stato decongelato o, in alcune fatti specie, non è obbligatorio porlo. Come vediamo, abbiamo sia freccette gialle che freccette scure. La freccia gialla indica che il prodotto è etichettato secondo la regolamentazione generale. Mentre invece la freccetta scura indica che quella denominazione è obbligatoria secondo la regolamentazione particolare per i prodotti della pesca. Ma c'è anche un QR code, è vero? QR code, sì, quindi il quick response. Quick response. È in pratica un codice che non è obbligatorio, ma è un'indicazione facoltativa che può essere posta in etichetta. Sì. E quindi si va con il nostro smartphone, si fotografa il codice e si hanno le notizie in merito al prodotto. Ecco, la massaia che ci ascolta in questo momento e che sa usare bene il suo smartphone ed ha in maniera gratuita scaricato sul suo telefonino un software. Sì, un banale software. Un banale software che si scarica dagli store, da Google, oppure anche dai Vodafone, oppure dai Team Store. Può, poi facendo click, l'abbiamo già fatto vedere altre volte, ma è molto simpatico, facendo col ditino sopra e mettendo al centro della telecamera, della webcamera, del telefono, in questo code, si vede un po' tutte le carte, cioè si radiografa insomma il prodotto, il pesce. È una cosa molto simpatica. Dunque, diciamo, un'altra insidia, è vero, dalla quale dobbiamo guardarci, dottor Smaltone, mentre stiamo vedendo e acquistando il pesce, è la frode. Cioè quando ci viene presentata e venduta una specie ittica spesso molto simile a quella descritta, ma la vediamo tra poco, ma in realtà che è di minor pregio e quindi costa meno. In questo caso scatta la frode. Sì, assolutamente. Cioè tu mi vuoi fregare con un pesce che non è quello che mi vende. Con un pesce che non è quello. Nell'ambito del settore dei prodotti della pesca, la frode commerciale, aliud pro alio, è una frode molto, abbastanza presente. Quindi è una frode che si configura quando il venditore cede al consumatore finale un qualcosa che ha un valore inferiore rispetto a quanto atteso dal consumatore. Questo avviene perché vengono, come dire, sul prodotto vengono eliminati gli elementi distintivi. Vediamo alcuni esempi, eccolo qui. Esempio, qui a parte un'etichetta sbagliata perché viene posto solamente il nome comune del prodotto della pesca ed il prezzo si presume 14, senza 14 euro o altro. Però noi siamo sicuri che questo è realmente un pesce spada. Una delle frode possibili è la vendita di pesce spada, cioè di squalo al posto di un pesce spada. Prodotti totalmente differenti e come qualità organolettiche e come prezzo soprattutto. Quindi in questo caso è una frode di tipo commerciale, annonario. Da che cosa si nota la differenza? Sì, no, se vediamo nell'ambito del trancio notiamo la differente disposizione del muscolo scuro, definito muscolo di Vogt. Come detto prima, essendo un trancio vengono a mancare tutti i criteri morfologici distintivi di specie. Vediamo sopra il pesce spada e sotto lo smeriglio. Il muscolo di Vogt ha un andamento diverso. Se vediamo nella fotografia di sopra, il pesce spada presenta il muscolo di Vogt a forma di ancora, che ricorda vagamente un ancora, o se lo vediamo da sopra una forma di ali di gabbiano. Fermiamoci un attimo, scusa Argentino, se possiamo tornare un attimo e frizzare l'ultimo frame, il confronto tra il pesce spada, eccolo qui, grazie. Eccolo qui. Mentre invece lo smeriglio presenta un muscolo differente e ricorda vagamente un curicino stilizzato o una macchiolina più tondeggiante verso il centro del trancio. Ho disegnato come se fosse un curicino, per ricordarlo l'ancorotto e il curicino. Allora, l'Evastai, anche noi che spesso andiamo dal nostro pescatore, pescivendolo di fiducia, facciamo rivedere un attimo l'immagine e dobbiamo notarla questa differenza. Se nel trancio, che spesso è presente sui banchi, ci sono queste due macchie laterali a forma di cuore, non è pesce spada, è uno squalo smeriglio che si vuole vendere per pesce spada. Un pesce cartilagginio che spesso è venduto come decongelato al posto di un pesce spada che ha valori commerciali assolutamente superiori rispetto a quelli. In questo caso, che dobbiamo fare? Chiamare la Guardia di Finanza, i vigili urbani, che dobbiamo fare? Dovremmo comunque far notare all'allosa. Facciamo prima notare al pesce vendolo, guarda che stai sbagliando. L'etichettatura non è adeguata perché non hai posto in essere gli obblighi per l'etichettatura. E poi mi stai vendendo un qualcosa per un altro. Se vuoi venderlo devi comunque porre in etichetta smeriglio e il nome scientifico. Lo facciamo notare. Se invece il pesce vendolo è resistente, allora dobbiamo dirglielo con le cattive oppure con metodi un po' spicci. Fin quanto capirà sicuramente, non è stupido. Andiamo avanti con l'altra scheda. Ecco qui, questo è un altro tipo di frode. Un altro tipo di frode nell'ambito del novellame. Spesso ci viene ceduto prodotto per novellame. Novellame, soprattutto quello che si trova da noi come il bianchetto, detto in maniera spiccia il ciciniello, non è più pescabile perché è considerato novellame sotto misura di sardina pilciardus. Quindi novellame che noi vediamo, che ci venga fornito nei ristoranti, non è novellame. Non è novellame, ma è un altro tipo di prodotto. È un prodotto che si chiama pesce ghiaccio ed è adulto. Simile al novellame. Simile al novellame, pur avendo una dimensione piccola, è l'adulto di... Ecco, questo è il bianchetto di sardina. Questo è il bianchetto di sardina. Il vero ciciniello. Il vero ciciniello, il bianchetto di sardina pilciardus. Mentre invece a noi viene ceduto, o nei ristoranti o presso i dettaglianti, altro prodotto al posto di questo e si chiama Neosalans tangarei, definito come nome scientifico, mentre il nome commerciale è un pesce ghiaccio, prodotto adulto, allevato in Oriente, congelato e inviato presso i nostri mercati. Infatti se vediamo nella figura sotto, viene venduto a noi in pani da 1 a 5 kg. Questo è il pesce ghiaccio che viene pescato nei mari asiatici, mi pare. Viene allevato, un prodotto d'acqua dolce. Acqua dolce, sì. Prodotto d'acqua dolce che viene allevato e arriva ai nostri mercati così, viene scongelato. Dove viene allevato soprattutto? Anche da noi? No, no, solo in Oriente viene allevato. Solo in Oriente dove probabilmente lo mangiano... Lo mangiano tranquillamente. Magari come sushi, insomma. Ma qualora arrivasse sui nostri mercati etichettato come pesce ghiaccio non ci sarebbero problemi, perché il consumatore è conscio di quello che acquista e quindi può acquistare o meno tale prodotto, ma non deve essere spacciato per un prodotto che non è. È perché siamo di fronte ad una frode alimentare, cioè ci fanno pagare magari il doppio... Sì, se non di più. Se non di più, sì, sì. Un qualcosa che ha valore inferiore. Sì. Bene, quindi dobbiamo stare attenti. Sì, noi ci vedremo spesso con il dottore Smaldone per queste dritte che ci devono educare. Ecco qui il filetto, l'ultima videata, i filetti... Il filetto, come detto prima, soprattutto nel filetto e nei tranci vengono a mancare i criteri morfologici distintivi e quindi è difficile distinguere se il prodotto che ci viene ceduto è un pangasio o se è una cernia. Pangasio, altro prodotto d'acqua dolce allevato, non da noi, arriva sui nostri mercati ed è subito, diciamo, è pronto all'uso. Per questo ce n'è un largo... Un pesce 70% acqua, mi pare. È un pesce molto, molto povero in proteine, nutrienti in generale. Ci può essere venduto per persico africano. Che invece è quello buono. Sì, il persico è comunque un prodotto di... Di pregio. Di pregio, di acqua dolce, però è comunque un prodotto di pregio rispetto al pangasio. Se vediamo le fotografie è molto diverso. L'alibut, prodotto da noi abbastanza assente, però è comunque di valore commerciale. E per l'alibut, l'alibut viene utilizzato nei paesi anglofoni per il fish and chips. E infatti, soprattutto in quei paesi, è abbastanza presente la frode di vendita di pangasio al posto di alibut. La cernia, la regina delle nostre tavole, dei nostri banchetti, si nota che è un pochino più chiara rispetto al pangasio e ha la disposizione dei miomere e dei miosetti differente rispetto al pangasio. Quindi i muscoli, per dirla in maniera breve, sono più distanziati. Altro esempio può essere la sogliola atlantica venduta per sogliola nostrana, quindi soglia vulgaris. Se si nota, si vede poco dall'immagine, però la sogliola nostrana, quindi soglia vulgaris, è spesso pescata. La soglia atlantica è un prodotto che può essere allevato. Se notiamo sulla pinna pettorale, la macchia è differente. La nostra soglia presenta una macchia uniforme sulla pinna, mentre invece la soglia atlantica, la soglia senegalensis, presenta sì una macchia, ma ha i raggi della pinna pettorale chiari, quindi è facilmente distinguibile rispetto alla nostra. Impariamo a distinguere queste cose e a non farci frodare. E questo, vabbè, c'è un veterinario nel tuo piatto, è uno slogan oramai presente da anni. C'è uno che ci piace moltissimo. Bene, noi, come avevamo detto, dovremmo essere collegati con il professor Cesare Cridelli in diretta da Avellino, dall'azienda ospedaliera Moscati. Non so se siamo già collegati, se possiamo procedere a questo collegamento, perché noi chiudiamo, spero sempre tutti i venerdì, con una ricetta, una bella ricetta gustosa, anti-cancro, una ricetta con ingredienti dalle proprietà specificamente, scientificamente, anti-tumorali, non quelle discutibili, che spesso vediamo inflazionare gli schermi di molte televisioni. La ricetta di oggi è una delle 220 contenute nell'ultimo libro, In cucina contro il cancro, scritto dal professor Cesare Cridelli, primario di Onco-Ematologia nell'azienda ospedaliera Moscati di Avellino, che è il numero uno al mondo nella oncologia polmonare, come vediamo fra poco come certifica, ecco qui, ExpertScape, che è un'associazione americana, californiana, di Palo Alto in California, che ogni anno stila il ranking, la classifica dei migliori specialisti. Vedete, questo è per quanto riguarda i tumori del polmone. Vedete sulla destra l'esperto Cesare Cridelli, proprio primo posto, quindi certificato da ExpertScape, questa classifica americana. Ci siamo col professor Cridelli. La ricetta di oggi è un'icona della nostra bontà mediterranea, il tortino di alici e patate all'origano. Oggi siamo in tema di pesce, di controllo della tracciabilità e dell'autenticità del pesce. Vediamo gli ingredienti base, cioè le alici, le alici spero non strane, l'origano e poi giù abbiamo fatto vedere una foto di uno dei tanti tortini che puoi separare. in basso le fasi della preparazione. Professor Cridelli è in linea con noi? Sì, buongiorno a tutti. Ah, professor Cridelli, salve. Ecco, stacchiamo un attimo sul professor Cridelli, se è possibile. Professor Cridelli, nel suo libro, tra le tante ricette, c'è molto pesce. Sì, molto pesce perché il pesce ha una serie di caratteristiche chiaramente molto positive dal punto di vista nutrizionale, soprattutto non abbiamo il problema dei grassi saturi con il pesce, quindi del colesterolo, mentre invece abbiamo i cosiddetti grassi buoni, in particolare gli omega 3, che hanno delle caratteristiche di protezione molto importanti, per esempio sul sistema cardiovascolare. E poi dico sempre, il vantaggio è che quando mangiamo, utilizziamo il pesce, chiaramente non mangiamo la carne rossa. Questo sembra strano, ma in realtà l'effetto positivo è dato non solo da quello che ci può dare il pesce in termini, come dicevo, di omega 3, di fosforo, altre cose, ma poi soprattutto perché ci riduce, quindi in modo corrispondente, il consumo poi delle carni rosse in particolare. Ecco, professore, noi torniamo un attimo su questa ricetta molto semplice, ma anche molto gustosa. Sappiamo che lei, oltre ad essere un grande oncologo, è anche un famoso gourmet in cucina. Spero che non sostituisca la sua moglie nel cucinare, insomma. No, 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 è fatto occasionalmente di domenica, quando c'è un po' di tempo per potersi dedicare, insomma. Bene, allora vediamo un po' questa ricetta, professore. Abbiamo detto alici, le alici sono ovviamente l'icona, una delle icone degli omega 3. Sì, tra l'altro perché in particolare il pesce azzurro è ricco di omega 3 e poi c'è un altro grande vantaggio che è uno dei problemi con cui dobbiamo fare attenzione con il pesce, soprattutto di grossa taglia, quindi mi riferisco al tonno, al pesce spada. Abbiamo parlato adesso con il dottore Spalto. Esatto, i problemi dei metalli pesanti e quindi noi con il pesce di piccola taglia, che quindi sono le alici, praticamente non c'è questa problematica dei metalli pesanti e in più devo dire anche, dobbiamo fare attenzione molto oltre, c'è anche la problematica relativa agli allevamenti, dove in alcuni allevamenti non adeguati del pesce, questo è un utilizzo di sostanti, di antibiotici o di altre sostanze. I mangini, i mangini che si dà al pesce. Esatto, esatto. Mentre invece questo che nelle alici non sono quindi praticamente di acquicoltura e quindi fanno parte dei nostri mari, questo è un altro vantaggio. Ecco, torniamo un attimo sulla ricetta, prego argentino, eccola qui. Allora, professor Grinelli, alici uguale omega 3, ma questo origano, l'origano che poi è, come dire, un po' l'ingrediente, è uno degli ingredienti diciamo base, l'origano che non sapevamo che avesse questo ingrediente, questa proprietà antitumorale. Sì, questo è interessante che nel libro poi per ogni ricetta sono riportate le sostanze antitumorali presenti negli alimenti della ricetta e proprio nell'origano, come molte erbe, ma in particolare l'origano c'è un prodotto, una sostanza veramente interessante che si chiama Carvacrolo. Il Carvacrolo, questa molecola dimostrata in laboratorio, quindi sulle cavie e sulle cotture cellulari, un'attività importante antitumorale sulle cellule di carcinoma della prostata. Quindi è molto importante. Sì, molto importante, chiaramente come dico sempre con onestà intellettuale, però queste cose, queste molecole hanno dimostrato un'attività in laboratorio, ma non è ancora dimostrato il beneficio nell'uomo. Ecco, sì, professor Gritelli, rapida, diceva, scusi, l'ho interrotta. No, dicevo, però chiaramente il beneficio nell'uomo, però è un settore importante, perché su altre molecole, ad esempio, si stanno circondando proprio farmaci, partendo da sostanze antitumorali che hanno dimostrato questa attività in laboratorio. Sì, ecco, giusto per chiudere, abbiamo un minuto, vogliamo, lei la conosce a memoria, però vediamo un attimo la preparazione. Un chilo di alici, è vero, professor Gritelli? Sì, sì, è molto semplice, in realtà è una ricetta veramente semplice e molto gustosa che è fatta praticamente dalla formazione di questo tortino con uno strato di patate tagliate molto sottili sul fondo, poi si fa uno strato di alici, dell'aglio e poi dell'origano, molto origano, poi si ripete lo strato e si conclude lo strato superficiale, sempre di patate con copertura di, con tanto origano, poi con l'aggiunta chiaramente dei vari strati di olio e sale. E si fa il forno? Sì, sì, a 200 gradi in 30 minuti, è importante tagliare le patate in modo molto sottile, perché permette la cottura in questo tempo. Però vi assicuro che è una ricetta molto semplice, molto gustosa e soprattutto è una ricetta che si sposa benissimo sul discorso appunto dell'educazione alimentare e dell'alimentazione correttata. Ecco, oggi venerdì andrebbe quasi a proposito un tortino di alici. Bene, sicuramente. Professore, allora noi spero di risentirci, lei sta sempre in giro per il mondo, spero venerdì prossimo, alla prossima ricetta che lei possa essere di nuovo presente, perché è una presenza preziosa. Mi pare che lei presenta il libro, dove si trova? Diciamo, dopo molti sabato pomeriggio, domani pomeriggio alle 17.30 a Ponte Cagnano, nella piazza di Ponte Cagnano, nei pressi del Comune. Ah, perfetto. Bene, professore, allora a presto, grazie della sua disponibilità. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Grazie, professor Critelli, al venerdì prossimo, quindi oggi il pesce ha dominato, insomma. Oggi il pesce ha dominato, il pesce ha vinto. Il pesce ha vinto, carri rosse soltanto, ricordiamolo, 200 grammi a settimana, non al giorno. Con moderazione. Con moderazione, però senza eliminare, senza allarmarci. Senza eliminare e senza demonizzare la carne rossa. Bene, grazie al dottore Smaldone, grazie ai medici veterinari, i nostri angeli custodi della tavola, grazie a voi per averci seguito da casa.